La ricerzione di Loda, la pala torna subito nel campo di Monza, Adam Sankock e poi Bausch in diagonale stretta. Scarni che non passa, allora la risposta di Monza alla seconda linea, olivotto va a murare, poi pallonetto di Bausch, la delizia! Ricerzione di Ortman, poi prova a mettersi proprio Anquok, ma è murata da un attento olivotto, allora la risposta di Bausch in diagonale stretta! C'è Arcangeli in difesa poi da seconda linea, Bausch! Pallonetto? Hai detto pallonetto? Pallonetto? No, non mi sembrava! Ma che funziona voce! Pallonetto? Ma che sito? Pallonetto? Te stesso? Potato?